Io sono Andrea De Fonte, sono il portavoce del comitato neocostituito dei balneari di Ostia, un comitato di recente formazione. Per quanto riguarda l'iniziativa di oggi, siamo già usciti con un comunicato dove abbiamo sostenuto l'intervento dell'amministrazione, abbiamo applaudito questo intervento di ripristino di una situazione di degrado che ormai aveva raggiunto dei livelli di insostenibilità. Speriamo che l'amministrazione possa bonificare l'area, una volta bonificata, rimetterla a disposizione di quei cittadini che amano vivere la balneazione con le spiagge libere. Allo stesso tempo però vorremmo anche sottolineare il fatto che un gran numero di cittadini invece preferisce utilizzare gli stabilimenti, utilizzare tutti quei servizi che trovano all'interno degli stabilimenti balneari. Speriamo che questo intervento sia un primo intervento, che ne possono seguire altri perché ci sono delle spiagge libere che devono ancora essere sistemate e rese fruibili a tutti i cittadini. Grazie a tutti.